E' stata presentata alla Casa del Popolo di Bottegone Cinema Sotto le Stelle, una rassegna di sei proiezioni dedicata all'ambiente, che prenderanno il via il 31 di agosto fino al 9 settembre. La passione per il cinema che incontra una riflessione sui cambiamenti ambientali in atta a livello globale, un'opportunità di dialogo, confronto e scoperta attorno ad un cinema di quartiere. Abbiamo pensato di riproporre un'attività storica di questo circolo, che ormai ora da più di 20 anni non veniva fatta, e quindi ci siamo messi lì, abbiamo pensato, abbiamo progettato questo nuovo cinema sotto le stelle, con l'idea anche di riproporlo poi agli anni prossimi e anche d'inverno di continuare con una sorta di attività sempre cinematografica all'interno della struttura. Con vari partner che ci hanno dato una mano, tra cui anche la Fondazione, che appunto ci ha confermato un contributo importante del 50% di tutte le spese del progetto, insieme poi ad Arci Pistoia, al Servizio Civile Pistoia, a UCA, che è l'Unione dei Circoli Cinematografici dell'Arci, e anche all'Associazione Promo Cinema, e appunto con loro abbiamo messo insieme tutto il programma, quindi pensando anche a non solo un cinema semplice, ma provando a dargli un taglio su una tematica che è l'ambiente, che quindi oggi appunto è molto ricercata e che anche il nostro circolo è molto sensibile e sta provando ad andare in questo verso, quindi con questo progetto vogliamo anche provare a far riflettere chi verrà su varie tematiche ambientali e infatti i vari cartoni, i vari film, i vari documentari saranno riferiti anche a questo. L'altra motivazione per cui abbiamo provato a mettere insieme questo progetto è proprio anche l'idea di riportare in un quartiere come il nostro, in una periferia, un'attività culturale dal basso, che appunto vada a ricercare tutte le varie persone e sia capace di provare a aprire un confronto, un dibattito anche sul tema, in questo caso ambientale, ma l'idea appunto è poi quella di riproporlo anche su altre tematiche per aprire appunto questa sorta di dibattito, perché comunque ce n'è bisogno e anche non solo in città, ma vogliamo che anche nelle nostre periferie torni questa sorta di politica dal basso con cui si possa collaborare con i cittadini.